Il Comitato Saquilanus fa delle osservazioni alla nuova legge urbanistica regionale approvata in giunta che dovrà essere discussa in Consiglio regionale. La legge vecchia risale all'83 e fu modificata nel 95. Sono tante le criticità rilevate dal Comitato. La Regione Abruzzo cerca di innovare per l'architetto Antonio Perrotti denileando nuovi strumenti, ma non badando alla sostanza dei problemi della Regione Abruzzo, che sono diversi. Ciò che chiede il Comitato è un impegno, un'assunzione di responsabilità da parte della classe politica, ma anche di associazioni ambientaliste, che si devono impegnare per apportare correttivi a questa legge. Questa legge purtroppo cerca di innovare la strumentazione, anche in maniera oltronica, però non dà risposta ai grandi quesite, ai grandi problematiche territoriali di questa Regione. Dal demanio marittimo in erosione, alla montagna, al sistema dei parchi, al contenimento dell'uso, del consumo del suolo, per il quale prescrive alcune norme, ma basta dire, come diceva la vecchia legge, è fatto di vieto di destinare ad uso diverso l'uso agricolo. Dopodiché il contenimento dell'uso del suolo, invece di estenderlo a tutta la Regione, da Castel del Monte a Pescara, va fatto a Pescara, ma con la pianificazione. Lì bisogna contenere, magari fare un piano sovracomunale, Pescara, Francavilla, Chiedi, compreso l'aeroporto e il porto di Ortona, e dire a quei comuni quelle poche cose che vanno fatte. Diciamo che con queste osservazioni voi chiedete alla politica, all'opposizione, di portare avanti delle osservazioni? Sì, noi infatti abbiamo fatto dei veri e propri emendamenti, minimi, con una considerazione di ordine politico programmatica, in cui richiamiamo la classe politica ad una svolta ecologica, che vuol dire fare, assegnare anche alle pianificazioni, non come fanno loro ancora all'architetto e ingegnere intermediario della rendita fondiare, ma biologi, ingegneri, ecologi, che sanno come innestare sul tessuto urbano e in campagna l'agrivoltaico, il riciclo delle acque, vedere se l'acqua è pulita o meno, recuperarla al massimo, in quanto oggi avremo crisi di siccità. Quindi sono questi i nuovi temi, sono di tipo ecologico, di tipo di riconversione del patrimonio di inizio esistente e tutta la normativa, gli strumenti ne abbiamo tanti, bisogna oggi passare dall'azione ai fatti, finanziare la pianificazione e sciogliere i nodi intercomunali. Chi lo può fare è la regione, ma pianificando in prima persona.